Noi siamo una scuola qua di Genova, un istituto tecnico industriale per informatici oltre che per altri indirizzi. Nel primo anno di insegnamento i ragazzi fanno sei ore alla settimana di lezione di informatica e lo scopo è quello di imparare a programmare. Per fare questo in una maniera che sia un po' anche più attraente per loro, quello che abbiamo fatto è sviluppare un framework che permetta di sviluppare facilmente dei giochi di tipo grafico impostati su rappresentazioni matriciali. In questo caso per esempio è un gioco dove bisogna connettere i colori uguali su una matrice. I giochi che vengono sviluppati sono semplici ma oppure anche complessi. per esempio nell'altro computer si può vedere che è possibile dei giochi con una spiegazione, dei giochi anche abbastanza complicati con molte opzioni oppure giochi più semplici. In ogni caso è sempre impostato su una visione matriciale. Quello che deve essere fatto nel gioco, cioè da parte dello sviluppatore del gioco, è quello di descrivere la logica, soltanto la logica. Quindi tutti i problemi di interazione con il computer, quindi di input e di output, vengono risolti molto facilmente. La logica si basa fondamentalmente su due concetti. Uno che bisogna poter rispondere agli input, per cui per esempio viene il programma, la logica viene rappresentata da una classe Java che deve implementare alcuni metodi. Per esempio un metodo che dice cosa fare quando si schiaccia su un tasto di direzione oppure quando si clicca col mouse su uno dei quadretti della matrice. Dopodiché, quindi per gestire l'input, allo stesso tempo è importante gestire l'output. Quindi che viene però risolto semplicemente dicendo qual è che deve essere l'immagine di sfondo e ogni singola casella della matrice qual è l'immagine che deve essere visualizzata dopo ogni azione. È possibile poi aggiungere anche delle animazioni perché c'è un metodo sempre di questa classe Java che si chiama animate che viene chiamato ogni tick time, cioè ha una frequenza che può essere variata di tempo, viene chiamato questo metodo animate che prepara il frame da visualizzare subito dopo l'esecuzione dell'animate. Quindi in questa maniera si possono avere sia gestione dei tasti sia la gestione del mouse e allo stesso tempo avere tutta un'animazione che permette anche di avere velocità diverse. Abbiamo quest'anno con i ragazzi di Quinta, abbiamo anche fatto il porting di questo ambiente che fino adesso funzionava soltanto su PC o comunque in generale su computer con Java Virtual Machine. Abbiamo fatto un iniziale, un parziale porting su Android in modo da poter utilizzare questo anche su smartphone e cose di questo genere qua in modo che i ragazzi possano vedere anche realizzare i loro giochi e poterli anche condividere con i loro amici.